Siamo nella chiesa di San Nicolò di Capodimonte. Abbiamo appena terminato l'allestimento dei quadri della pittrice Pastura. Ecco la parete meridionale dell'edificio. Il quadro sento l'odore di Salsedine che dà il titolo alla mostra. La visione complessiva. Dalla navata settentrionale. Bruno Saccetta. Comandante del... ... ... ... ... ... ... ... ... ...